Pizzette di sfoglia ripiene ragazzi, una vera bomba, iniziamo a farle, dai! Prendiamo della pasta sfoglia e ricaviamo dei dischi aiutandoci con un bicchiere. Ora disponiamo sulla base un'acciuga e richiudiamo con un altro disco di pasta sfoglia. Con i rebbi di una forchetta chiudiamo tipo raviolo la nostra pizzetta. Mettiamo sopra del pomodoro fresco un pochino di origano e mettiamo in forno per 10-12 minuti a 200 gradi. Nel frattempo tagliamo finemente la mozzarella. Quando le pizzette sono pronte aggiungiamo la mozzarella e rimettiamo in forno a far sciogliere. Ragazzi finiamo con una pioggia di origano che è la fine del mondo e assaggiamo. Sono super filanti, provate a farle perché ne vale assolutamente la pena. Ciao!